Vorresti imparare ad accompagnare le tue canzoni preferite in modo vario, creativo e coinvolgente? È per questo che abbiamo iniziato a suonare, no? Per suonare i nostri pezzi preferiti. Ma molte volte, dopo aver deciso di impararne uno nuovo, ti sarai sicuramente trovato a fare i conti con tutorial discutibili su YouTube o spartiti con troppe poche informazioni da cui ricavare un accompagnamento interessante. Immagino che ti sarai accorto che questi metodi ti portano a suonare il brano sempre allo stesso modo. Inoltre, sono molto laboriosi da ripetere per ogni nuovo brano, il che ti porta a impararne molti meno di quanto vorresti. Con questo metodo rischi di metterci una vita a creare un repertorio per suonare anche solo una mezz'oretta per i tuoi amici. Quello che stai ascoltando l'ho suonato improvvisando. Senza nessuno spartito, mi sono servito soltanto degli accordi e di un metodo efficacissimo che ti libera da ogni blocco. Quando i pianisti più esperti accompagnano un cantante o un solista, non si appidano quasi mai allo spartito o un tutorial. Lasciano invece che siano la loro creatività e la loro esperienza a guidarli, proponendo nuove soluzioni ogni volta che suonano un pezzo e facendo così emergere la loro personalità unica. Per fare questo ed emozionare chi ci ascolta, è necessario conoscere a fondo i meccanismi che si nascondono dietro l'accompagnamento di un brano e imparare nuovi pezzi leggendo passivamente uno spartito o seguendo ciecamente un tutorial è come leggere una poesia senza conoscerne il significato delle parole. Se cerchi un metodo che ti farà suonare qualsiasi brano con la giusta consapevolezza e senza perdere tempo, allora segui il corso online di Piano Segreto sull'accompagnamento. Imparerai molti più brani, molto più in fretta e soprattutto suonandoli molto meglio. Non dovrai più affidarti a tutorial ogni volta che vorrai suonare un nuovo pezzo. Ti basterà ascoltarlo e spontaneamente sarai in grado di improvvisare o comporre il tuo accompagnamento al pianoforte. Padroneggerai ritmicamente ogni brano e il tuo accompagnamento sarà semplice ed efficace. Non sarai sempre legato ad un unico modo di accompagnare e anzi potrai suonare sempre con uno stile diverso. Suonerai e canterai le tue canzoni preferite senza essere banale e scontato. La tua musica sarà coerente e ben distribuita e sarai in grado di suonare sempre nuove variazioni anche se suoni lo stesso pezzo dieci volte. Sarai un valido sostegno per il tuo cantante che ti ringrazierà per farlo sentire così sicuro mentre canta. Potrai accompagnare il solista della tua band in modo da fargli dare il massimo. Sarai il suo supporto. Smetterai di perdere tempo dietro tutorial o pattern ripetitivi e sfrutterai il sistema per accompagnare in modo efficace senza restare legato a nessuno schema. Clicca sul pulsante qui sotto e accedi subito al corso. Il corso per accompagnare al pianoforte di Piano Segreto è davvero completo. All'interno troverai 83 lezioni divise in 12 sezioni 73 video per un totale di 3 ore con spiegazione e dimostrazione di ogni esercizio proposto 38 esercizi creati per farti interiorizzare tutte le tecniche principali dell'accompagnamento per insegnarti ad applicarle quando vorrai ed infine troverai 4 tutorial su 4 canzoni per applicare tutto quello che hai imparato con partitura con gli accordi fai l'audio della voce isolata con il metronomo e la dimostrazione di come puoi creare delle variazioni su ogni brano. Non allarmarti. Tutto questo costa meno di 3 ore di lezione da un qualsiasi insegnante privato e ti darà molto di più. Questo perché non c'è fuffa, solo informazioni utili. Sono le lezioni migliori che puoi avere. Vengono progettate, montate e riviste per darti il meglio. Non ci sono giornate no o lezioni ripetute. Puoi rivedere le lezioni quanto e quando vuoi dal tuo computer, smartphone o tablet. Il corso inoltre sarà tuo per sempre e non dovrai pagare ogni volta per sentirti dire le stesse identiche cose perché magari preso da mille impegni non hai avuto tempo per esercitarti al meglio. Scopri oggi i segreti dell'accompagnamento per suonare come un vero professionista anche se suoni il piano per hobby. Clicca ora su iscriviti per sbloccare le tue mani ed imparare ad accompagnare come un vero professionista.